ah bella la scheda è rimessa ora possiamo fare delle sprese io no almeno 3-4 volte ha ripreso la registrazione non è solo che il capito che sarebbe condizionato dal mio occhio al mio essere regista capito a tutti i costi di l'immagine perfetta esatto per un regista esatto hai una telecamera oh carina oh carina poi faccio le riprese poi lo può dare alla semplicissima allora qua sta registrando poi quando mi rompi il calcio così registra e così così registra vedi per i numeri che vanno qua ciao 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 questo è un non lo so me l'hanno dato in mano ma va io pure avevo pensato a metterlo in mano si ci dà un bacino allora vado a salutare un po ciao simona piacere ciao questa riprende mi stai filmando si ma la cosa in mano adesso devo fare faccio una ripresina ma questa è una ripresa si penso di si funge 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 no questa si si no 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 basta che guarda di qui ok ma cosa non basta bellino videocamera adesso basta però io proprio vado via vuoi continuare lento no questa non c'è anche un vento è semplicissima è semplicissima perchè pigi e va ripieni se poi vuoi questa è quella che usano questa è quella che usi sì se fai tanto puoi anche solo fare aspetta vi voglio dire questa cosa basta come si spinge dogoo così quello dietro quello dietro ok si poi se vuoi proprio spegnere la cosa vuoi usare questa oggi si se vuoi stai ancora facendo il record si ah non vuoi spegnere vabbè se volessi spegnere pigio quello pigio quello e poi nel caso ti appare della roba tu scrivi preview prev indietro e di nuovo questo e si spegge assoniamo per spegnere tutto si esatto e invece per interrompere solo questo grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.